Allo me paesi, allo me paesi che un giorno Cristo scindi di la cruce di un giorno i sacerdoti non dici missa, non dici missa l'usa crestano non suona gli campani c'è un campanile alto allo me paesi, allo me paesi e c'è un Cristo in cruce, allo me paesi, allo me paesi questa è l'iniziativa artistico-culturale della trasmissione televisiva di Telemia radici in festa che coglie alcuni aspetti fondamentali del patrimonio artistico e culturale delle località in esame simbiosi popolare e religiosa che nel corso dei secoli ha formato quella che oggi è l'intelagliatura della società moderna calabrese un tenere salde le tradizioni per non perdere la memoria del passato radici in festa attraverso le immagini le testimonianze di storici i racconti orali degli anziani e i canti religiosi mira a conservare quel tesoro legato alle tradizioni che si rischia di perdere Gioiosa è sempre stata una città molto religiosa attaccata alla fede e alle sue tradizioni numerose chiese sorgono nel suo territorio urbanistico e periferico la chiesa di San Rocco risale alla fine del 1500 venne più volte ampliata e restaurata nel 1775 il santo di Montpagliar fu proclamato patrono principale della terra di Gioiosa nel 1960 alla chiesa parrocchiale di San Rocco fu riconosciuto il titolo di santuario uno dei santi più venerati al mondo è certamente San Rocco di Montpagliar il culto di San Rocco si è prodigiosamente diffuso nel 1400 quando scoppiò la peste che decimò le popolazioni di mezza Europa i padri conciliari del concilio di Costanza fecero ricorso alla sua intercezione per scampare alla malattia e diffusero la venerazione del santo in tutta Europa a Gioiosa Ionica la festa liturgica del santo si celebra solennemente l'ultima domenica di agosto il santo nasce a Montpagliar in Francia tra il 1345 e il 1350 ed è morto all'età di soli 32 anni Rocco crebbe in un clima di profonda religiosità e appena Maggiorenne si spogliò di tutti i suoi beni seguendo l'esempio di San Francesco d'Assisi nella metà del 1300 in Europa imperversò la peste e causò 20 milioni di morti Rocco cominciò a viaggiare per l'Europa durante il periodo della pestilenza percorse la via Francigena e arrivato a Roma operò la guarigione di un cardinale appestato rimase tre anni a Roma nel viaggio di ritorno in patria vicino a Piacenza fu colpito da peste ma nonostante la malattia si prodigò a soccorrere e aiutare gli altri ammalati ma durante il suo pellegrinare fu abbandonato e misconosciuto tanto che dovette rifugiarsi in una grotta rischiando la fame il signore però non si era dimenticato di lui provvedendo a sfamarlo servendosi di un cagnolino che ogni giorno rubava un panino per portarlo a Rocco che si sfamava nella grotta qualche tempo dopo il padrone del cagnolino insospettito lo seguì e scoprì la presenza di Rocco e lo ospitò nella sua casa finché non fu guarito ma Rocco volle riprendere il suo viaggio a causa della guerra tra il Ducato di Milano e la Lega costituita da Urbano V ebbe mille difficoltà e quando giunse al confine fu scambiato per una spia e incarcerato a Voghera morì tre anni dopo in prigione e dopo la sua morte fu riconosciuta la sua identità per il segno di croce che egli portava impresso sul petto le sue reliquie furono conservate a Voghera fino al 1483 altri biografi ambientano la morte del santo Adanghera sul lago Maggiore altre città hanno rivendicato di possedere i resti mortali di San Rocco Montpaglier, Voghera, Venezia e Roma ma il luogo più accreditato come sede della conservazione delle reliquie è Voghera e pertanto sono da ritenersi autentiche quelle che provengono da tale località San Rocco è il santo pellegrino per eccellenza è il santo laico è il santo di tutti San Rocco circondato da tutti gli agi della vita si fa povero sofferente e va alla ricerca delle piaghe degli uomini per poterle risanare un fedele amico e un compagno di viaggio nel nostro pellegrinaggio terreno il comune di Montpaglier città natale di San Rocco ha donato al comune di Lourdes la statua del santo proprio per rendere omaggio ai milioni di pellegrini che si recono ogni anno alla grotta delle apparizioni della Madonna e per sottolineare come il santo pellegrino per eccellenza ha percorso l'Europa per rispondere al progetto che Dio aveva su di lui anche la processione che si svolge la mattina dell'ultima domenica di agosto in gioiosa Ionica ha un profondo significato di pellegrinaggio la lunga e lenta processione partendo dalla chiesa di San Rocco attraversando il centro storico la aggiunge la chiesa matrice da qui, dopo una messa solenne ridiscende verso il centro del paese e si snoda lungo le vie principali cittadine arriva nella parte bassa del paese per risalire pian piano e raggiungere nuovamente il santuario la processione è accompagnata dal suono fragoroso di numerosi tamburi che scandiscono il loro ritmo per tutto il percorso da sempre si pratica il ballo votivo e il ballo popolare eseguito da moltissime persone che a ritmo incessante dei tamburi danzano davanti alla statua del santo per voto per una grazia ricevuta o per domandare la guarigione da qualche malattia il ballo votivo di San Rocco a gioiosa Ionica è di origine molto antica storicamente si pensa che possa risalire al 1746 subito dopo la peste che ha afflitto l'Europa e anche l'Italia del 1743 oltre che a gioiosa Ionica si pratica anche in alcune ragioni del Salento e in alcune sperdute regioni della Spagna la processione di San Rocco con le sue peculiarità e le sue festosità presenta tutte le caratteristiche che accompagnano ogni manifestazione religiosa della nostra terra calabrese un carattere corale e coinvolgente che abbraccia tutti i sentimenti di pietà popolare anche nei momenti più esaltanti e di maggior confusione si assiste ad una vera e propria festa a carattere familiare dove tutti si ritrovano in cammino condividendo i momenti di festa e le ore liete il ritmo dei tamburi che appagna il cammino di San Rocco per le strade di gioiosa è come un richiamo paterno per un intero popolo puntualmente l'ultima domenica d'agosto si ritrovano qui in pieno centro storico migliaia di pellegrini grandi, piccoli uomini, donne da ogni parte della Calabria e non solo il ritmo del grande tamburo ti entra dentro il corpo come un grande cuore che pulsa e allora anche le gambe scandiscono lo stesso ritmo e il cuore di un intero paese a pulsare e a gridare Rocco, Rocco, Rocco e viva Santo Rocco la corata preghiera cantata e ballata assomiglia a una sorta di rito propiziatorio dagli occhi lucidi di commozione e di sorriso ostentato puoi subito capire con quale passione il gioiosano fa tutto ciò è un legame inscindibile quello del santo pellegrino e la sua gente non v'è momento della giornata di festa che il rintuono dei tamburi smetta un solo istante ed anche quando a sera esausti musicisti e ballerini improvvisati rientrano nelle loro case la mente continua a scandire il rito Rocco, Rocco, Rocco e viva Santo Rocco Rocco, Rocco, Rocco e viva Santo Rocco siamo tornati a Gioiosa per raccontarvi una delle storie e delle feste più antiche e più sentite del nostro comprensorio oggi parliamo della festa di San Rocco venite con me di San Rocco Signora non va alla festa lei? Io sono stanca. È stanca? Va a casa? No, no, vai in piazza se mi riposo un po'. Non va alla tarantella? No, no. Buongiorno. Buongiorno ma ancora non è arrivato. Non è arrivato il santo? No, il santo è partito dalla chiesa, non è arrivato a casa, il signore è questo. E lei viene su o no? Non viene alla festa? o lo aspetta qua il santo? No, non riesco a camminare. Una volta la ballava la tarantella però? No. Non l'ha mai ballata davanti al santo? È tanti anni che non riesce a ballare, però quando era ragazzino la ballava o no? Sì, ragazzino come tutti i ragazzi. Cosa è cambiato da una volta adesso la festa? Tanto è cambiato. Per esempio cosa? La gente, una volta era tutto pieno. C'è meno gente adesso? Sì, perché ognuno arriva con la macchina, si ferma il tempo e se ne vanno. Era più bella a piedi vero? Una volta la gente veniva la notte per restare qua. E dove dormiva? Per strada? Nella chiesa, la chiesa era sempre aperta. La chiesa di San Rocco tutta la notte? Sì, sì. E la gente per voto con la lingua per terra la strusciava. C'era una signora davanti che puliva e la strusciava. E queste cose non si vedono più, vero? No, che è tanti anni che non si vedono più. Oh Enrico, bene cavolo a te qua che signora. Oh io mi ripiglio a pescare. Andate a suonare? Sì. Quanti anni è che suonate per San Rocco? Io ho circa 36. 36 anni che suonate per San Rocco addirittura? Eh sì, vero. Da dove parte sta cosa? Come mai? Come, come mai? In che senso? Come mai? Una tradizione? Sì, sì, una tradizione da 500 anni. Lunga 500 anni e una cosa, insomma, una devozione al santo. Eh, niente. Cosa si prova a suonare per San Rocco allora? Guarda, è un'emozione indescrivibile, soprattutto per noi gioiosani. È un po' difficile da spiegare, è una cosa che sentiamo, che ci tiene comunque legate al nostro paese, alla nostra terra e al nostro santo. Si chiama Rocco lei? No, mi dispiace. Il 60% si chiama Rocco qui? No. Non è andata alla festa, signora? Eh, volevo vedere il santo quando esce, purtroppo non ce l'ho fatto. Pitfalli, piccola, 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 piccola. Ti stai preparando per la tarantella? Sì, sì Ti stai preparando per la tarantella? No, per suonare Suoni tu? Solo per suonare, sì Tarantella O stai imparando a suonare? Stai imparando, stai imparando a suonare Volate a turno? Che volate a turno? Quanto tempo hai che hai fatto questa cosa? Deci anni, per sempre E' di gioiosa pure lei? Di gioiosa pure lei? Cosa? E' di gioiosa lei? Siderlo, siderlo Viene a suonare a gioiosa, come mai? E' solo un siderlo, ogni anno vengo, sono marzato Le piace questa festa? Le piace questa festa che è molto bella Sono devoto io a San Rocco Come mai? Le ha concesso qualcosa a San Rocco? No, ma vengo per suonare ogni anno Marzato di sederno sono, di sederno E la demozione la suona suonando ogni anno? Ogni anno, sì, ogni anno suonando Grazie E la demozione la suonando è la sua Signora, quanti anni hai che parla del San Rocco? Sono circa 10 anni Quanto? Circa 10 anni Lei, quanti anni hai che parla del San Rocco? 6 anni 6 anni Cosa prova? Le piace questa festa? L'emozione è stupenda Lei di qua? No, di Genova Sono nata qua ma abito a Genova È capitato di vivere fuori questa festa? No E la prima di sé No, non ce n'è feste uguali È unica la festa del San Rocco Non ce n'è feste E lei quanto tempo è che balla per San Rocco? 6 anni 6 anni 6 anni 6 anni Quanto meraviglioso Per volerci Rimaniamo per via San Rocco Le piace questa festa, sì Meravigliosa Lei di qua? Di Agnara, sì Calabrese Calabrese Sì, è migrato a Genova Come fa a ballare? Faccio vedere come balla Ma adesso la balla insomma Ti arricciamo Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Quante ore pallate? Tutta la giornata? Grazie a tutti. 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 da un giudizio. Grazie a tutti. sempre? Grazie a tutti. a tutti. la più bella. e a tutti. ma come? mai non ballate e perché siamo stanchi come stanchi al fresco appena arrivati non ballate questa è la festa del ballo come mai non balla la inviti a ballare quando arriva la musica balliamo eccola qua senza il cavaliere il cavaliere non balla signora ha mai raccontato ai nipotini di questa festa non è su malata non posso parlare non vuole parlare non posso ballare lo so ma ai nipotini suoi ha raccontato mai di questa festa e come no sono qua vedete ti ha detto di quando era bambina lei che ballava no io non ho mai ballato mai ha mai ballato come mai? non le piace ballare? no il ritmo è bello incoraggia no? guarda sì ma ballare no lei è venuta per pregare invece? eh? per pregare è giusto ha chiesto qualcosa di speciale al suo santo o no? no no mi ha chiesto tutto l'anno ha fatto una preghiera per tutti praticamente? certo e voi non ballate? come mai non ballate? eh ci fermiamo un po' questa è la festa del ballo e voi non ballate? eh da dove venite? di qua siete? Ciron Marina lì? Ciron Marina lì Ciron Marina c'è il gemellaggio avete pure voi San Rocco? non sbaglio? no no a Bofigliera San Rocco ah da voi non c'è San Rocco? proprio Ciposenta e come mai da Ciroc qua? eh siamo dei voti San Rocco siamo dei voti San Rocco però a Ciroc si balla o no? eh poi a San Catalto a San Catalto si balla e qua non si balla un accetto di tarantella muore il sangue com'è? bellissimo le piace questo modo di fare la festa di concepire? no che è delle mie questa molto 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 bella veramente una festa scupenda che non poteva essere riuscire meglio veramente che impressione le dà sta festa? beh è una cosa originalissima è una cosa sicuramente molto frequentata da migliaia e migliaia di persone io è la seconda volta che vengo nella mia vita ma sono veramente bello non ha mai ballato ci devi provare però no 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 il ritmo incoraggia ballo da solo io vorrei richiedere la Bergamasca no non devi richiedere la Bergamasca lei è del nord è giusto? Bergamasca non è vero che impressione dà questa festa? ma io è la seconda volta che la vedo è una festa che prende ha visto? la signora è presa dal ritmo lei un po' meno no no abbiamo ballato anche tanto prima siamo in stato di riposo adesso stato di riposo tu è bello fresco un po' più tardi e poi ricomincia il ballo ok va bene buona giornata signora gli sta insegnando come pare a tamburinara quando sarà grande è appresso dallo zio è perché lo zio suona ah lo zio sta suonando si lo zio quindi lei sta prendendo le gesta dallo zio si sicuramente la grande farà la musicista buona pensa che sarà un treno lungo signora e vai 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 da dove venite? di qua siete? come? da dove venite? da Locri tutto per ballare è la prima volta che ho vado come le sembra la festa? bella 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 vengo ogni anno è bellina è tradizionale caratteristica signora l'aspettava sta festa? eh? l'aspettava la festa? eh eh come le piace la festa? bella 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 quante ne ha viste signora? quante ne ha viste di queste feste? qua? passane e com'era un tempo San Rocco? eh bella bella era più bella una volta? no 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 ma certe cose una volta era una volta è cambiato poco? ah facevano un poco più bella la festa si la precessione si è più tardi aveva tessoni aveva tante cose la precessione era più più grande si 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 ma mentre io non c'era così invece è bella pure mamma però usante sempre chiedo una volta era tutto il giorno in precessione? si 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 in precessione cominciava il mattino e finiva la sera? no 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 non c'era mezzo giorno la precessione c'era una messa poi c'era mezzo giorno e tutta continuata che era bella si si senta un tempo ballava a questa festa lei o no? no no non ha mai ballato? no no non è di qua? si è strano che un gioiosero non balla per San Rocco no? una volta ballava una volta ballava lei ballava? anche io ballavo una volta adesso non balla più adesso i gambe dove sono? un pochino anche per devozione non posso ballare che differenza c'era la festa di adesso e quella di un tempo? adesso è più grossa come festa è più bella una volta era meno è vero che durava tutto il giorno una volta o no? è come divertimento una volta era più più sentita a livello religioso io ballava un pochino io ballavo un altro giorno e che cosa è cambiato? che cosa è cambiato? è cambiato la vecchiaia tutto c'era gente che veniva su a piedi mi raccontavano di gente che la gente che veniva a piedi le cava per terra per voto la gente che con i piedi per terra a volte andavano in chiesa con la lingua strascinuna a terra e si dormiva in chiesa è vero? si dormiva in chiesa è vero che veniva la sera prima? si adesso con le macchine è più facile arrivarci no? facile ma se no la sera di sabato fino alla mattina di domenica si dormiva in chiesa e si dormiva in chiesa Signora, è vero che ogni anno si mette in questo punto per guardare Salvolta? No, è la prima volta. È la prima volta? Sì. Dice che ha provatato con l'ombrello per mettersi qua. Certo, perché se ne qua mi sciocco. Non è di qua lei? No. Come la vede sta festa? Le piace? Ancora non ho visto niente. Da come viene? Da Torino. Ma è originaria dalla Brezza? La Brezza è o no? Bianco. Ah, di bianco. E pure lei di bianco? Sì, sì. Come ha saputo della festa, questa festa particolare? Eh, quest'anno purtroppo abbiamo prolungato le ferie e allora veniamo. Come purtroppo? Meno male. Eh, meno male. C'è questo bel sole, il male è tornato buono. C'è la festa di San Rocco. Potete andare? Perché non ballate? È perché ci fanno male i gambi. E Sardella. E Sardella? A Sardella. Di Ciro o Ciro la Sardella? No, di Ciro. Proprio a Sardella e Ciro. Ciro Marina. Ciro Marina. A Sardella. E come mai qua signora? E siamo ogni anno che veniamo a San Rocco. Avete anche voi San Rocco lì? Sì, sì. No, no. No, noi l'abbiamo a Bucoglieri. Ma noi prepariamo qua. Noi abbiamo San Cataldo a Ciro. Come mai questo legame? Ce lo spiega? È un legame perché San Rocco noi abbiamo avuto dei miracoli e quindi siamo qua a ringraziarlo. E quindi ogni anno venite qui a ringraziare San Rocco a Ciro. Ogni anno, ogni anno. Ogni anno. Come mai non ballate? Non avete mai ballato? Abbiamo ballato. Sì, sì, abbiamo ballato. Abbiamo ballato. Ci siamo persi in questa occasione allora. No, ma comunque ora lo faremo a poco in piazzo. E la vostra festa a Ciro come? No, noi siamo al ristorante alla lupa. Eh? A Vesta in Ciro come è di San Cataldo. Bellissimo. Molto bello. Cosa c'è di bello, di particolare? Di particolare c'è tante cose. Nelle barche, poi va a San Cataldo nelle barche. Ci va a mare anche lì? Sì, si fa tutto il litorale. Tutte le barche di Ciro va a mettere in San Cataldo. A chi esce lo porta prima e fa tutto il giro del mare. Prima sulla parte destra e poi sulla parte sinistra. Poi va a Madonna di Mare, c'è un santuario, sta una... Va alla notte e poi il secondo giorno riscende giù a Ciro. Ma Ciro non è la città della Sartella? Sì, no, no. È i due paesi più avanti la città della Sartella? No, torretta di crudo. La panna è diversa, Laura. Noi la facciamo ancora. La nostra... Allora, venite. No, è pure buona, quella di crudo è buona. Venite in Iperie, Pasqua, diciamo. Ve la facciamo vedere, come si fa. Vi invitiamo. Mi date l'indirizzo e cose, vi faremo vedere tante... No, le vengo a trovare io, dove è il problema? Venite, venite a Ciro. Vediamo il nostro indirizzo. Ci vediamo lungo la via Roma, salutare. Io voglio salutare tutti i invalidi di guerra, perché io sono la precedente. Quindi oggi mi trovo qua a pregare per loro che San Rocco ci dà lunga vita e che stiano bene. Ma in quanti siete venuti? No, io ho 53 persone. C'è un pulmone intero? Ho fatto un pulmone intero. Quindi abbiamo prenotato il ristorante e tutto. Ma ci sono altri pulmone da Ciro o solo uno? No, solo uno. Sempre io vengo io, siamo tanti. Quindi tutti gli anni speriamo di venire qua. San Rocco deve dare saluta a chi non ha potuto venire e a chi si raccomanda con noi. Sardelle crugole, sardelle crugole. Viene Ciro e viene Ciro, ma la sardella... Guarda che la sardella di crugole è la sarda salata pepata e per amicinare si fa una pette di crema. Dicci che è messa a sarda, ma non è Ciro e vado a provare. Dicci quello di Ciro è un cuore sul bianchetto. Hai capito? Ho i confà, è meglio che gli eser... Qui è crugole è più buona. Certo che l'ho assaggiata. La vostra è troppo grossa, troppo grossa. E vabbè, ma ci proviamo a fine. Come Ciro Superiore è più bello di Ciro Marino o no? Ciro Superiore è un paese più storico, perché è un paese più all'antica. Ciro Marino è un paese più evoluto. Più nuovo, più nuovo. Sarebbe stato un po' lei è di qua? Sant'Ilario. Sarebbe venuto apposta per San Rocco? Sì, sono di San Marino, mio marito non è di qua. Perché qui è mio marito. Suo marito è di Sant'Ilario? No, no, io, io. E suonamente è di Gioiosa? No, neanche. E come mai siete arrivati qua? Eh? Siete venute apposta per San Rocco? Ma noi siamo giù per due mesi d'estate adesso. Alla marina di Gioiosa? No, a Sant'Ilario. Sì, ma com'è venuta qua? Come mai per San Rocco è venuta qua? Sì, per vedere la festa. È la prima volta che la vede? No, 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 no. Sono due anni che non veniamo, perché lui non è stato tanto bene. No, no, veniamo tutti gli anni quando abitiamo a Torino. Sono stanta. Ha camminato tanto? Ho camminato tanto e ho detto per il posto. Lei è di qua? Sono nativa qui, però sono di Torino. A Torino? Sì. Le piace questa festa? Sì che mi piace. Ma la ricorda da quando era bambina o no? Sì. E cos'è cambiato? Come era una volta? Era più seria, più bella. Che vuol dire più seria? Adesso non lo so. A te piace la festa? Sì. È bella? Sì. Hai ballato o no? Non vai a ballare? Signora, lei non balla? No. Come mai? Perché non ce la faccio. E di qua anche lei? Sì, però abito a Torino anch'io. Anche lei a Torino? Sì. È tornata apposta per San Rocco? No, sono venuta in ferie. Ho avuto l'occasione di vedere la vita. Un'improvvisazione? Sì, sì, è un'improvvisazione. Cioè i gruppi 5-6? Sì, sì, ci riuniamo a gruppi, che so, questo è per esempio il gruppo della Chiasa Matrice, dove siamo tutti residenti qua e quindi in questa zona e quindi ogni anno ci riuniamo, qui siamo tutti, tutti questi palazzi qua, tutte queste case qua, abitiamo in queste case. E il gruppo di ballo invece è occasionale? Il gruppo di? Di ballo, quelli che ballano. Di ballo, diciamo, viene attratto più dalla grande pubblicità che c'è di San Rocco e vengono da tutti i paesi vicini, però la gente di Giorgio Saionica, penso che ognuno di noi poi alla fine a Berli qualcosa fa di sicuro. Quindi Tamburinara è la matrice, giusto? Insomma, siamo gente che sogniamo il tamburo in occasione della festa di San Rocco. Tamburinara ha un differente significato. Noi siamo solo gente, persone che il giorno di San Rocco ci ritroviamo ogni anno sempre più affettuosamente vicini. Senta, quanto è sentita questa festa per un Giorgio Sano? Molto, moltissimo. Lei deve pensare che anni fa c'era gente che, faccio un esempio, tanti emigranti che rimanemano proprio per questa festa. Purtroppo negli anni tra gli impegni di lavoro che sono molto più, purtroppo molto più seri, non dico più seri, più impegnativi, la gente purtroppo ha dovuto, come quest'anno, che quando la festa accade nell'ultima domenica d'agosto, chiaramente c'è meno gente, perché la gente ha l'esigenza di andare a lavorare e quindi deve partire per tempo per arrivare nelle grandi città come Torino, Milano per poter riprendere il lavoro. E questo per un Giorgio Sano diciamo che è veramente un problema serio, chiamiamolo, sembra una cosa assurda, sembra una parola molto forte. Io penso comunque che per tanti il cuore di tanti gioiosoni che sono all'estero, sono nell'Italia, nel nord, oggi il cuore è qua con noi. Senti, lei adesso suona, ma ha mai ballato? Io ho ballato pure come no, io ballo e suono, sempre a San Rocco, con grande tranquillità. Da quando era bambino? Insomma, più o meno sì. Senti, lei adesso suona, ma ha mai ballato? 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 Grazie a tutti. 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 ti percorrono tutta la pelle e tanta commozione perché si ricordano tante cose belle legate anche alle leggende su San Rocco. E con l'intero popolo che balla, questo legame tra la musica popolare e la festa di per sé, come nasce? Ci sono delle leggende intorno a questa situazione del ballo votivo, si racconta che mentre passava la statua che proveniva da Napoli quando era stata commissionata dalla commissione, dalla commissione delle feste, c'era un bambino che era moribondo e al passaggio della statua si è ripreso in modo miracoloso, allora il padre è uscito fuori dalla casa e si è messo a ballare davanti alla statua con tanta gioia, quindi la leggenda racconta questo in breve. Da lì è partito questo ballo davanti alla statua? Sì, questa è una delle tante leggende. Poi il passaggio davanti al centro storico è qualcosa di sintetico, forse unico. Sì, è molto bello perché coinvolge, poi la gente è proprio a contatto e si vede veramente l'attaccamento verso questo santo. Nonostante la durezza del percorso perché sono delle salite impegnative. Sì, molto. E' anche questo che affascina l'intera processione perché noi gioiosiani la facciamo con molta devozione, il folkora a noi non interessa, a noi interessa la parte religiosa della festa e noi nella processione soprattutto mettiamo l'anima perché veramente siamo devoti a questo santo grande. Costruttore e suonatore di Lire Calabrese? Costruttore ma non suonatore diciamo, un'arranciatella così. Da dove viene? Cilerno. E costruisce le Lire? Sì, da 27 anni, però costruite proprio perfette ma io suonare una strimpellata. Questa è una Lire classica oppure si può anche adattare per essere amplificata? Non saprei dire, però la comprano tanti. Che mercato ha? Che mercato ha uno strumento così? 250 Euro qui nella Lope. 250? 250, di che cosa è fatta? Di ciliegio, olivo, olmo, tiglio, acero, noce, nespolo, c'è una serie solo di un legno una oppure è un misto? Potono fare da tanti legno. Per esempio questa di che cosa è fatta? Questa di che cosa è fatta? Tiglio. Tutto è tiglio? No, il guscio, la cassa in tiglio. Questo è tiglio, giusto? Questo bianco è tiglio, questo qua invece? Abete. Abete? Quindi un misto di legno? No, questa va sempre in abete. Sempre in abete? Sempre in abete. Come è l'abete? È così, tutte le casse armoniche dicono che si vogliono un abete. Ho provato con lo stesso legno e non va. E l'archetto invece? L'archetto è una fibra diciamo. E poi la seta gli ha messo qua, cos'è? Sì, gli ha la pece. Che sta facendo? La pece per scivolare. Per farla scivolare nelle corde? Per la volta che attaccava il nostro mento questo. Sentiamo il suono adesso? Sentiamo il suono? Questo è in ciliegio. Questo è ciliegio. Grazie a tutti. 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 stasera. Cioè, da stamattina? Vi siete mai fermati? Mai. Di gioiosa siete? E da quanto tempo fate questo? Da sempre? Da quando eravamo piccolini. Cioè, tramandato da chi? Da papà, da nonna? Da nonne, dagli anziani. Quindi lo facevano anche loro? Sì. E tu invece sei il ballerino? No, sono. Io sonatore. Sonatore? Sì, organetto. Lei non balla nemmeno? Mi ha insegnato lei a ballare. Anche organetto. La ballerina da dove viene? Da Milano. Lei signora pure da Milano? Da Reggio Calabria. Da Reggio. E come vai qua? In vacanza. Come mai qua? In vacanza, eh. Ah, da Reggio qua viene in vacanza, per ballare? Anche. Conosceva già la festa o no? Da 35 anni. Ah, viene sempre. Anche gli anni. È una cosa si prova a ballare per San Rocco? Io è la prima volta che vengo a questa festa ed è bellissima. La trova bella? Perché la trova bella? È perché c'è tanta gente e... C'è il fatto insolito di ballare a una festa, vero? Come? Il fatto insolito di ballare a una festa. Con tanta gente così. Ti piace la musica popolare? Sì. Da dove viene? Da Torino. Lei invece? Torino, Torino. Ma immigrato oppure no? No, no, i miei sono di qua. Di dove? Di Gioiosa? Quindi conosceva già la festa. Sì, già vista, già vista. Bella, è bella. Signora, quanti anni è che parla? È la prima volta qui. Da dove viene? Per il Zicoli. Per il Zicoli. Per il Zicoli. Ti piace la festa? Alla me. Per me che non hai il Zicoli? Io vengo da Rossano, in provincia di Cosezza, perché mio padre è Gioio Cosa. E il ballare? Il ballare è il suo ballante. Vengo portando giù. Vengo portando a Gioia per vedere questa festa meravigliosa. Signora, insegna a ballare alla bimba? Come? Insegna a ballare alla bimba. E beh, sì. Quante ore sta suonando? Circa 10. È stanco? È stanco? Molto, molto, molto. E perché lo va? Lo sta rotto perché è il mio protettore. San Rosso vuole la musca. E vuole anche la musca. Noi lo facciamo per volta sta roba. Buonasera. Come ha vissuto questa festa lei? Io... Bene, base. No. L'ha vissuta bene? Io sì, sì. E di quale? È di Gioiosco? Non è di Gioiosco? Di dov'è? Di Locri. Lontano, non vuole dirmi di dov'è? Di Locri! Ah, di Locri! Ve l'ho detto già! È venuto per che cosa? Per vedere la festa? Come tu! Bene ogni anno! Perché è proprio questa festa? Perché ci piace! Le piace? Cosa le piace? Il ballo davanti al santo? Uno di due! Signora, è stanca dal ballo? Sì! Ha ballato? Sì, abbastanza! Balla sempre quando viene a San Rocco? Eh, voglia! Da dove viene signora? Di Fabrizia! Viene apposta per la festa? Sì, sì. Per la festa, sì. E cosa le piace della festa di San Rocco? Eh, la balla, non si diverte! Ha chiesto qualcosa al santo oggi? Eh, ma mi facciamo stare bene! Eee! 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 Sì! Sì! Eee! Sì! Nuhì! Sì! – Sì! – Sì! Oì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.